Termina nel migliore dei modi la carriera di Tony Martin che dopo 16 anni di professionismo lascia il mondo delle corse e lo fa nel miglior modo possibile, conquistando un oro mondiale con la sua nazione, con la nazione appunto della Germania. E lo fa dopo averne già conquistati 4 a livello individuale nella cronometro, veramente una leggenda contro il tempo, una leggenda del cronometro che lascia il mondo del ciclismo e lo fa nel miglior modo possibile. L'argento viene conquistato dalla grande favorita sulla carta, ovvero l'Olanda, mentre l'Italia riesce a difendere una medaglia che sembrava insperata fino a circa 10 km dalla fine, andando a conquistare la medaglia di bronzo per solamente 5 centesimi di secondo sulla Svizzera, che in una prova di 44 km di 50 minuti, di oltre 50 minuti, è veramente impressionante. Gli uomini italiani hanno fatto nettamente miglior tempo, come ci si poteva aspettare, anche se io mi aspettavo qualcosina di meglio dal terzetto italiano, mi aspettavo che facessero ancora più differenza, ma poi la differenza in generale è stata fatta soprattutto al femminile, dove l'Italia non partiva sicuramente con uno dei terzetti migliori e lo si è visto. Ma siamo comunque riusciti a difenderci, a portare a casa la seconda medaglia di questa rassegna ridata dopo l'oro di Pippo Ganna nella cronometro maschile Elite, ed è anche la seconda medaglia ovviamente per lo stesso Filippo Ganna che era impegnato nel terzetto maschile. Buongiorno a tutti, amici a parte di sport, e ben ritornati su Magliaria Sparciane, io sono Alessandro, su cui vi vorrei parlarvi appunto della cronostaffetta mista, la Mystery Lay, ai mondiali di ciclismo su strada delle Fiandre 2021. Una gara che è stata introdotta nel calendario mondiale nel 2019 a sostituire la cronosquadra che veniva effettuata appunto per Team, World Tour e non, una prova con quella della cronosquadra che vedevo assolutamente fuori posto, perché metti caso avesse vinto appunto la Bahrain Victorious, la nazione del Bahrain avrebbe conquistato un oro all'interno del medagliere dei mondiali, il che è una cosa veramente assurda. A me la cronosquadra è sempre piaciuta, ai mondiali, però l'ho sempre vista fuori posto proprio inserita all'interno del medagliere, l'ho vista veramente come una cosa poco sensata e ho visto abbastanza di buon grado l'inserimento di questa prova, che poi però nelle prime due edizioni diciamo non mi ha mai entusiasmato, soprattutto agli europei dello scorso anno a Plouet, fu veramente una corsa imbarazzante, su un percorso non adatto a effettuare delle prove a cronometro appunto a squadre. Abbiamo visto di tutto, abbiamo visto cadute, gente che rallentava in curva, gente che doveva aspettare perché andava troppo forte, staccava i compagni, veramente uno spettacolo abominevole direi, quello dell'anno scorso. Mentre quest'anno, fatte su percorsi buoni, diciamo percorsi adatti a fare delle cronosquadre, sia a Trento che nelle Fiandre, diciamo che ho visto del potenziale, ho visto che comunque è una prova che può essere interessante, può essere divertente. Se sviluppata magari inserendo prima le donne e poi gli uomini, magari inserendo un quarto elemento in entrambe le frazioni, facendo appunto quattro uomini e quattro donne, potrebbe avere del potenziale, potrebbe essere una prova interessante. Tra l'altro è di cui gli ultimi giorni la notizia è che potrebbe anche essere inserita all'interno delle Olimpiadi. Non si sa se a Parigi 2024 o a Los Angeles 2028, comunque è in programma appunto l'inserimento nel calendario olimpico di questa prova a squadre. Comunque parliamo subito della gara di oggi, abbiamo già divagato abbastanza, sono già passati tre minuti e mezzo. Nel primo blocco il miglior tempo maschile è stato fatto registrare dalla Spagna con la Polonia, che però ha fatto nettamente la differenza nel femminile. In generale in questa prova abbiamo visto che la differenza vera l'hanno fatta le donne più che gli uomini, perché gli uomini, diciamo, i tretetti maschili erano racchiusi in pochi secondi migliori, mentre al femminile il divario era molto più grande. L'abbiamo visto sin da subito con la Polonia che è rimontato un minuto e 12 secondi rispetto alla Spagna appunto a livello femminile. Poi anche nel secondo blocco la Svizzera ha fatto la differenza soprattutto al femminile passando al comando, con 17 secondi su una sorprendente Gran Bretagna, che ha fatto molto bene sia al maschile che al femminile, non me l'aspettavo, diciamo, così performante. Allo stesso tempo però la Svizzera è stata un po' deludente al maschile, perché con una coppia come Stefan Kung e Stefan Bisseger, diciamo che fare solamente il quinto tempo tra i tretetti maschili è un po' riduttivo, è un po' diciamo, un po' una sottoprestazione per quanto comunque non abbiano fatto male e questo ha portato appunto a un'esclusione della Svizzera dal podio che ha chiuso quarta solamente a 5 centesimi dall'Italia, però insomma solamente 3 virgolette in quarta posizione. Per quanto riguarda appunto i migliori tempi al maschile, l'Italia, fa registrare il miglior tempo con il terzetto composto da Filippo Ganna, Eduardo Affini e Matteo Sorbrero, ce lo si aspettava perché insomma era nettamente il terzetto più forte, 20 secondi di vantaggio sulla Germania con Tony Martin appunto all'ultima gala della carriera, Maximilian Walscheid e Nicolas Hart, 32 secondi sulla Danimarca, 33 sul Belgio, 34 appunto sulla Svizzera solamente 3 virgolette in quinta, 41 secondi sulla Gran Bretagna e 42 secondi anche qui su una deludente Olanda. Ci si aspettava qualcosa di più per quanto ovviamente l'Olanda puntava tutto al femminile dove aveva un terzetto sostanzialmente imbattibile con la campionessa del mondo Ellen Van Dijk con il bronzo mondiale e campionessa olimpica Annemiek van Vleuten e con un'altra specialista come Rianne Marcus che ha fatto anche lei top 10 nella prova individuale per cui chiaramente il terzetto olandese era fortissimo come era fortissimo il terzetto tedesco perché avevamo dentro Lisa Klein, Lisa Brennauer e Mike Kroger, tutte e tre atlete capaci in carriera di salire sul podio o comunque in top 10 ai mondiali a crono e soprattutto erano già ben rodate perché facevano parte del cortezo su pista che ha battuto per bene tre volte il record del mondo stracciandolo completamente alle Olimpiadi di Tokyo 2021 conquistando la medaglia d'oro per cui erano anche rodate assieme, erano fortissime. A cronometro l'abbiamo visto quest'oggi che sono riusciti a fare la differenza e a portare appunto la Germania sul primo gradino del podio con anche una grandissima prestazione della Germania al maschile perché io onestamente non mi aspettavo che la seconda forza diciamo al maschile dopo l'Italia sarebbe stato appunto il terzetto teutonico con Tony Martin, Maximilian Walschel e Niklas Hart Tony Martin che tra l'altro è andato fortissimo anche nella prova individuale probabilmente caricato appunto da questa energia del fatto che fossero le sue ultime gare in carriera diciamo sentiva le emozioni e voleva dare il meglio di sé ed è riuscito a farlo appunto conquistando quest'oro l'Olanda che chiude seconda con il miglior tempo al femminile riesce a rimontare qualche secondo anche se non tantissimi dieci secondi diciamo rispetto al terzetto tedesco con appunto Ellen Van Dijk con Annemiek van Vleuten e Rijan e Markus e appunto chiude una seconda e a 12 secondi di distacco con il terzetto maschile che era composto da Joost van Endem, Bock Mollema e Bowman con Bowman terza posizione appunto per l'Italia 37 secondi molto più staccata rispetto alle prime due con il terzetto maschile composto appunto come già detto da Ganna, Sobrero e Raffini il terzetto femminile composto da Cecchini, Cavalli e Longoborghini terzetto femminile che ha partito molto male ma poi nel finale è riuscita diciamo a difendersi perdendo solamente 13-14 secondi dalla Svizzera dopo averne persi praticamente 40 nella prima parte per cui diciamo sono andate increscendo le nostre ragazze e sono riuscite appunto a difendere questo podio, questa terza posizione, questa medaglia di bronzo quarta posizione appunto per la Svizzera 37 secondi con il femminile Marlene Reusser che ha fatto praticamente tutto da sola, lei che ha fatto seconda agli mondiali e prima agli europei nella cronometro individuale ha fatto veramente una grandissima prova quest'oggi tirando sostanzialmente per oltre metà gara da sola il terzetto svizzero quinta posizione appunto per una sorprendente Gran Bretagna che chiude solamente 54 secondi di distacco setta posizione per la Danimarca a 1 minuto e 16, buona prestazione tutto sommato anche delle ragazze soprattutto però degli uomini con Michel Birg, Norsegaard e Kurt Nielsen che ha fatto appunto il terzo tempo totale a livello maschile settima posizione per i padroni di caso del Belgio a 1 minuto e 21 ottava posizione per gli Stati Uniti, oltre a due minuti il distacco appunto della formazione americana quindi già molto il distacco tra la settima e la terza posizione poi completa una top 10, la Francia in una posizione che tra l'altro ha avuto anche una foratura dell'elemento più forte maschile di Benjamin Tomat comunque non sarebbero andati oltre a un ottavo massimo massimo settimo posto quindi non sarebbe cambiato molto per la Francia decima posizione occupata dalla Polonia che ha fatto la differenza soprattutto a livello femminile mentre il maschile sostanzialmente il terzetto polacco è stato il peggiore solamente davanti a World Cycling Center che appunto era la formazione diciamo di nazioni minori messe assieme dal centro ciclistico di EGL gestito appunto dall'UCI in Svizzera comunque dunque arriva l'oro per la Germania l'argento per Olanda arriva la terza medaglia per l'Italia in questa rassegna ridata di Lovagno, di Bruges 2021, delle Fiandre appunto 2021 dopo l'oro di Pippo Ganna che ci ha fatto godere ancora una volta domenica e un'altra medaglia che si aggiunge nel palmaresse del Verbanese che sta diventando sempre sempre più grande tra strada e pista comunque ragazzi per questo è tutto mi piace, mi piace, mi piace, iscrivervi se non ci sarà la nostra presentazione ci vediamo in un prossimo video domani ci sarà il giorno di riposo e poi da venerdì inizieranno le prove in linea da prima con gli Junior poi con gli Junior 23 e poi con le gare elite femminili e maschili rispettivamente di sabato e di domenica